Allora, può andare lei al Polipini? Di qua, signora. Non perché non vogliamo accettare la ragazza, perché... Allora, cosa è successo, signora? Da ieri qua si accettano solo sospetti Covid o pulistica. Ok, l'opulistica la possiamo fare. Quindi, questo è mai diventato un procorso Covid, perciò per eventuali casi mi auguro di no. Per altre cose, ultimazione ospedale tranne qua e cervello, perché l'acqua è Covid. Lei ha avuto un incidente, è stato qui al pronto soccorso, poi le hanno detto di andare via perché è diventato area Covid. Sì, mi hanno detto di andare via perché era diventato area Covid e ritornare lunedì per fare una visita, per quanto riguarda la visita ortopedica, scusami. E ora la visita dove dovrò farla? Non lo so, guardi. Dal pronto soccorso mi mandano in ortopedia, in ortopedia mi dicono pronto soccorso, diciamo che penso che sono un po' confusi anche loro. Dove state andando? Ancora non lo sappiamo. Solitamente quando partite con l'ambulanza da qui dove andate? Se sono negativi vanno in altri ospedali. E qui portate tutti i casi presunti positivi. O vanno a San Paolo, i positivi. Questi giorni avete fatto tanti viaggi. Eh sì, eh sì. Dai, ieri pronto soccorso Covid. Dovete andare in un pronto soccorso che non sia Covid. E potrebbe provare ad andare al Policlinico, perché noi abbiamo i positivi dati per voi. Noi gli possiamo dare soccorso. E sia questo che il cervello. E dove andare al pronto soccorso del CIVI. Cosa le hanno detto? Niente, che diciamo questa visita che mi dovevo fare, siccome sono stato già due volte all'ospedale a Marsala, e niente, funziona soltanto come orologia Villa Sofia e Policlinico. Qui è solo Covid. Qui è solo Covid. Speriamo che non lo prendiamo a corso, Covid. Che dite voi? Siamo pronto soccorso Covid. Vada in altro pronto soccorso. No, no, sono stato al Policlinico. No, noi non possiamo ricevervi. Siamo pronto soccorso Covid. Lei dove è andata prima di qua? Io sono stata l'altro giorno al Bucchieri e adesso sono andata al Policlinico. E che l'hanno detto? Adesso basta. E che l'hanno detto? Che non posso entrare. Lei ha un problema al piede. Io ho un problema al piede e non posso entrare.